in questo tutorial proveremo a installare la stick search usando ansible su questo canale trovate già dei tutorial in cui si installa la stick search manualmente e trovate già dei tutorial su come configurare ansible quindi per prima cosa dovete copiarvi alcuni passaggi vi faccio rivedere per prima cosa dovete copiarvi appunto l'ansible originale e metterlo appunto nel vostro progetto quindi cp-rf etc ansible e appunto gli date il nome della cartella su cui volete lavorare nel mio caso 033 underscore ansible perché sto mettendo qui appunto in ansible samples la mia cartella dove ho tutti i vari esperimenti con ansible e una volta che l'avete fatto aprite l'editor andate su host no scusate su ansible.cfg e qua dove avete inventory togliete appunto etc ansible lasciate solo host appunto per dirgli che volete lavorare in locale poi andate qua nella cartella host e create appunto radicare il vostro server ad esempio creiamo una serie di di host appunto per la stick search nel mio caso sarà solo uno quindi mettete il numero dp del vostro host e nel mio caso l'host è una macchina virtuale su virtual box che ho qui è una macchina virtuale ubuntu quindi ho configurato la rete scheda 1 avanzate in oltroporte appunto io ho dichiarato una porta ssh e una per elastic search sulla porta 9002 e poi qua su scheda 2 appunto c'è una v box net scheda solo host v box net 0 per configurare dove appunto tenete un ip diciamo fisso per la vostra macchina per configurare la v box dovete andare vediamo un attimo vediamo un attimo vediamo un attimo strumenti preferenze la rete andate qui e no 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 ok aspetta che forse dobbiamo spegnere la macchina virtuale proviamo shutdown allora per configurare la v box net ma credo che sia rete ok ok esatto andate qui strumenti rete e allora io qua ce l'ho già ma se non l'avete fate qui crea una v box 1 in automatico vi da appunto il numero dp eccetera e quindi con questo sito a posto ora siccome questa non serve la tolgo la v box net 0 quindi fatto questo facciamo ripartire la nostra macchina virtuale perché ovviamente ora dobbiamo creare dobbiamo copiare all'interno nostra macchina virtuale una chiave ssh a non è obbligatorio tecnicamente potete anche dichiarare all'interno di ansible usernime password quindi vorrei vedere entrambi i modi ora la chiave ssk se non l'avete la generate con questo comando ssh meno che i gen e poi seguite insomma le indicazioni che vi da per crearla se invece già l'avete dovreste trovarla qua nella guti del vostro sito punto ssh e poi dovreste trovare id andascore s appunto pub oppure come avete chiamato il vostro file e appunto qua ve la ritorna una volta fatto dovete copiarla all'interno della vostra macchina quindi usato questo comando ssh meno copy meno id spazio meno i il percorso della vostra chiave e poi l'accesso appunto alla vostra ssh quindi nome utente chiocciolo numero dp della vostra macchina meno p e va bene meno p 22 22 l'uso io perché sto usando virtual box ma su una vps normale non vi dovrebbe servire una volta fatto vi chiederà di mettere la password vi copierà la chiave e poi non dovreste più necessitare di nessuna di nessuna password per accedere infatti ora si prova ad accedere da qua ssh appunto nome utente chiocciolo ip della macchina come vedete entrò nella macchina senza senza aver bisogno della password ma nel caso non vogliate copiare la chiave ssh non possiate dubbiate per forza metà user name password vi basterà dichiarare qui appunto nell'host lo username e password tramite questi comandi tra questi comandi appunto ansibol meno ssh ansibol underscore ssh underscore user uguale e qua mettete appunto il vostro nome utente non utente con cui vi logate in ssh e ansibol underscore ssh password e poi mettete la vostra password ora di questi li tolgo perché non mi servono e non ci resta ora che andare a creare un playbook quindi o meglio a creare un ruolo quindi andiamo la nostra cartella ansibol andiamo in cd rolls e lanciamo il comando ansibol underscore meno galaxy init e possiamo chiamarlo elasticsearch ansibol galaxy init il ruolo elasticsearch è stato creato correttamente infatti ora qua abbiamo una cartella chiamato chiamata elasticsearch ora possiamo tornare indietro uscire dalla cartella rolls e tornare alla nostra route e se andiamo qui in rolls appunto troviamo la cartella elasticsearch al suo interno appunto abbiamo le task gli enders e tutto quello che ci servirà per creare il nostro playbook vi ricordo tutto questo trovate nei tutorial precedenti di ansibol questo è solo un rapido refresh quindi ora possiamo concentrarci sul costruire il nostro il nostro playbook per prima cosa magari creiamo subito all'interno nostra route il il file allora come possiamo chiamarlo questo file possiamo chiamarlo vabbè chiamiamolo elasticsearch punto yelmo elasticsearch punto yelmo ok una volta appunto creato il file elasticsearch punto yelmo andiamo appunto a scrivergli l'host che vogliamo utilizzare ovvero elasticsearch e poi andiamo appunto a richiamare il rolls che abbiamo creato che nel nostro caso è anch'esso elasticsearch quindi tramite rolls andiamo appunto a chiamare la cartella elasticsearch e qui appunto abbiamo tutti i nostri handlers task eccetera che andremo a scrivere quindi ora non ci resta appunto che andremo a vedere come creare all'interno di task le installazioni appunto del nostro del nostro caro elasticsearch per prima cosa ci colleghiamo appunto qui al sito di elasticsearch guardiamo la procedura manuale per installarla e cerchiamo di convertirla in ansible come vedete per prima cosa ci chiede di appunto installare richiamare la gpgk per farlo in ansible facciamo così ora io l'ho già incollato dentro qui andiamo nel nostro main all'interno di task roles elasticsearch task e appunto creiamo questa task name appunto aggiunge elastic gpgk poi usiamo il comando aptk con l'url andiamo a richiamare questo indirizzo qui e poi appunto state present proviamo a lanciare il nostro playbook e come vedete ok la gpgk sembra ok ora ci chiede di installare l'apt repository quindi dobbiamo riprodurre questo comando all'interno del nostro ansible quindi andiamo qua name due punti scusate a me era suonato il cellulare proprio durante il tutorial dove eravamo rimasti eravamo rimasti che dobbiamo installare appunto apt transport quindi 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 torniamo qua lo più possiamo chiamarlo installa apti transport poi qua usiamo appunto il packaging apti due punti name due punti apti porti transport meno htps state possiamo usare appunto present e present oppure anche latest forse e poi update underscore cash yes quindi ora proviamo a lanciarlo anzible playbook plastic search vediamo se tutto cari ok l'ho installato perfetto torniamo qui save repository ok ora dobbiamo aggiungere quindi il repository di elasticsearch per farlo appunto dobbiamo creare questo comando quindi name aggiungi ora io ho creato quel pezzo qua che avevo già scritto per docker ma lo convertiamo per elasticsearch perchè tanto la procedura è la stessa aggiungi elasticsearch repository apti riposito i due punti e qua andiamo a mettere andiamo a mettere questo ovvero deb artifact staple main quindi copiamo quel pezzo qui copiamo quel pezzo qui e lo mettiamo qui tac e ok quindi dovremmo esserci proviamo a lanciare il nostro playbook guardiamo se è tutto ok ovviamente io adesso sto lanciando il playbook ad ogni passaggio solo perchè appunto stiamo costruendo questo questo playbook ovviamente una volta che tutto sarà corretto potremmo riutilizzare a lanciare appunto lanciarlo una volta e avere tutta l'installazione che viene in automatico senza dover ad ogni passaggio lanciarlo ma ovviamente adesso lo stiamo costruendo stiamo testando la prima volta anche per me che provo a costruire un playbook per elasticsearch poi il bello di ansible appunto è che fatto una volta poi possiamo riutilizzare questo questa configurazione all'infinito e quindi in pochi minuti avere poter replicare appunto la nostra configurazione su qualsiasi macchina vogliamo senza nessuno sforzo quindi c'è uno sforzo iniziale per chiara la configurazione ma poi una volta che ce l'abbiamo via possiamo utilizzarlo all'infinito su tutte le macchine che vogliamo e su tutti i progetti che avremmo bisogno di fare quindi ok abbiamo appunto installato il nostro il nostro repository qua mi sono distattamente parlavo come vedete è andato tutto ok e quindi non ci resta ora che andare in installare appunto il nostro pacchetto elasticsearch direi che questo è abbastanza semplice perchè dobbiamo solamente replicare il nostro comando apt install qui quindi andiamo qua facciamo un name due punti aggiungo install elasticsearch install elasticsearch apt due punti name due punti elasticsearch state possiamo mettere le test e update cash yes quindi ora direi che possiamo provare a lanciarlo quindi toc 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 ok anasible playbook ops ora ok ecco a mette ci metterà un po ora perché deve perché che la stessa sia abbastanza pesante come come download eccetera quindi ci metterà un attimo ok come vedete ha finito la stessa c'è stato installato con successo detto elasticsearch ora l'abbiamo installato entriamo un attimo a vedere se sta andando entriamo un serviles elasticsearch status ci dice che è inattivo forse perché dovevamo dopo l'installazione a mettergli un restart quindi per farlo non ci resta che andare qui e aggiungere un notify quindi qua notify elasticsearch restart e per farlo per farlo quindi qui mettiamo un notify elasticsearch restart che però dobbiamo andare a creare all'interno del nostro handler quindi andiamo qui all'interno di rules elasticsearch handlers questo lo cancelliamo ok poi mettiamo appunto allora aspettate di quello abbiamo chiamato elasticsearch restart ma restart elasticsearch questo lo copiamo andiamo qui nel nostro hand per questo il notify non è nient'altro che un richiamo appunto all'handlers e quindi il nome qua deve combaciare ora questo lo tiriamo indietro e qui invece che apache 2 dobbiamo mettere elasticsearch e quindi state restarted questo deve andare allineato qua sotto name ok quindi ora rilanciamo il nostro ansible playbook ok 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 ce l'ho ancora in attivo forse perchè forse perchè noi avevamo già effettuato un'installazione mentre e quindi lui non non lo vede installato quindi 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 niente non ci resta che per stavolta forzare la cosa mettendo il restarted qui ora come vedete il quale diventa ridondante perchè lo abbiamo due volte ma qua perchè appunto facendo l'installazione step by step avremmo dovuto crearlo il notify al momento in cui l'abbiamo installato quindi ora per rimediare la cosa ne mettiamo un service anche qui per fare riavvio in questo modo dovrebbe riavviarsi e scusate devo uscire e appunto far partire il nostro elasticsearch quindi ansible playbook elasticsearch ok ora sto facendo appunto il restart elasticsearch ci metterò un attimo perchè appunto è abbastanza pesante eh visto che usa appunto credo la java usa java eccetera per per andare poi la vps che ho creato non è molto potente quindi ma poi magari la potenzio nel caso ce ne sia l'esigenza vediamo ok riavvio è andato a buon fine quindi ci colleghiamo in ssh guardiamo il nostro service ok ora sta andando quindi ops quindi se lo facciamo un curl uno due sette punto zero punto zero punto uno due punti nove mila e due come vedete ha ci ha ritornato appunto ha una risposta positiva ci ha stampato questo json anche quello che appunto indica che eh elasticsearch è in funzione ora usciamo vediamo se riusciamo a vederlo anche dall'esterno quindi 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 per farlo dobbiamo fare uno nove due punto uno sei otto punto cinquantasei punto uno due punti nove mila e duecento ma come vedete non lo vediamo questo perchè ah credo che dobbiamo settare il nostro elasticsearch per funzionare non sull'ip uno due sei all'interno della vps non deve andare sull'uno due set che è raggiungibile solo dall'interno non la vps ma sullo 0.0 eh punto 0.0 in modo che sia raggiungibile anche dall'esterno ah per farlo quindi dobbiamo anche andare qui nel nostro elasticsearch e apporta una modifica al file di configurazione di elasticsearch file di elasticsearch che se andiamo qua nella documentazione scendiamo andiamo qui su learn how configure elasticsearch e qua vediamo dovrebbe essere il file elasticsearch.yelmo che dovrebbe trovarsi credo nella cartella etc elasticsearch e ok allora entriamo un attimo in ssh9vps per vedere il file dopo andiamo a vedere come modificarlo tramite 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 ben detto ehm ehm smtc elasticsearch vediamo che quale abbiamo ah permesso negato ok dobbiamo usare entri come sudo ok ok come vedete abbiamo qui elasticsearch.yelmo facciamo un cut per poterlo vedere sudo cut andriamo ok ok come vedete dovrebbe essere network host che dobbiamo andare a diventare e a rendere pubblico aspetta vogliamo un attimo bene sì ok dobbiamo andare a sovrascrivere appunto uno a decommentare network host e qui appunto metterli forse il nostro 0.0.0.0 per farlo abbiamo vari modi certamente potremmo copiarci il file originale e metterlo in file e poi ricaricarlo oppure oppure potremmo provare tramite raghezza modificare solo questa riga allora quindi come vi ho detto dobbiamo andare a modificarlo ci sono due modi appunto creiamo un file gelmo con la configurazione che vogliamo con il file appunto scusate con questo file appunto il file elasticsearch.ielmo e lo sovrascriviamo copiandolo sopra oppure possiamo provare solo tramite appunto il comando line in line a cambiare network host quindi proviamo tramite il line in line se poi falliamo copieremo invece un file di configurazione pulito quindi per farlo qua sotto andiamo a creare una tasca che chiamiamo sovrascrivi riga per abilitare ip poi come destinazione dobbiamo mettere etc elasticsearch e abbiamo detto che il file si chiama elasticsearch.ielmo e la riga che dobbiamo andare a prendere è aspettate un attimo è network host quindi copiamo un attimo la riga che dobbiamo andare a prendere è e e e e e per farlo dobbiamo metterlo cosi vediamo se funziona e poi qua facciamo un bel notify, restart plastic search così vediamo se anche il nostro handler funziona quindi forse qua dobbiamo metterlo tra virgolette proviamo ok vediamo che succede vediamo quindi qua, dobbiamo uscire aspettate ancora una cosa perchè ovviamente dobbiamo mettere 0.0.0.0 questo lo togliamo ok, era un riferimento che non ci serve ok ho una brutta impressione che non funzionerà però ci proviamo lo stesso incrociamo le dite incrociamo le dite ah orco avremmo dovuto cancellare, restart plastic search ora perchè appunto l'abbiamo messo nell'handlers quindi dopo lo faremo ma è andato quindi non abbiamo possibilità di tornare indietro sovrascrivi sovrascrivi sembra che si qualcosa abbia fatto permita change it vediamo adesso ovviamente sta riavviando di nuovo elasticsearch elasticsearch runninghandler ok ok qua ci da errore come lo vediamo failed enabled to restart service georgio because we control process exit error system allora colleghiamoci andiamo a vedere come ha modificato il nostro file se l'ha modificato giusto eh in realtà lui l'ha modificato giusto che è abbastanza sorprendente quindi 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 perchè ha dato errore networkhost ok quindi allora direi che fino a qui eh allora il nostro comando qua ha funzionato questo lo dobbiamo togliere quindi il file ha sovrascritto correttamente networkhost 00 networkhost 000 quindi è corretto set verbinda network specific in IP quindi 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 andiamo un attimo a vedere qui all'interno del nostro ssh serviceastic search status andiamo un attimo a vedere il log e publish address using scroll andiamo un attimo a rilanciare il nostro c'è un errore adesso nel nostro scusate non c'era allineato ne proviamo a rilanciarlo per vedere se magari è solo un problema di memoria ora invece sempre sta andato tutto bene quindi forse 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 non sto ancora andando ok forse ho scoperto l'arcano ma dico solo forse forse vanno sbloccata questa riga qui ovvero discovery seed host forse dobbiamo abilitarla e a metterla a pubblica stando a questo quindi dobbiamo dichiarare forse l'ip qua dentro quindi 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 però non ho capito cosa ci dobbiamo mettere comunque proviamo a copiarla torniamo qui nel nostro nel nostro giocattolino appunto nella nostra task duplichiamo questo sovrascrivi qui perché proviamo ad andare a modificare il nostro seed host quindi 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 sovrascrivi riga per seed host il file è sempre quello quindi prendiamo questo e lo incolliamo qui mentre andiamo a metterlo anche qui e però stavolta invece di host1 e host2 proviamo ad andare a mettere uno due sette punto zero punto zero punto uno poi proviamo a mettere anche zero zero punto zero punto zero punto zero e vediamo che succede quindi 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 qua usciamo lanciamo il nostro aspettate eh vediamo se abbiamo il nostro notify ok il nostro restart elasticsearch quindi 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 possiamo lanciarlo ops qua errore 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 perché c'è un errore quindi name notify name align file non è allineato giusto questi vanno qua all'interno e notify va qui ok ora dovrebbe essere tutto no scusate questi erano giusti era questo che era troppo avanti ok lanciamo ancora errore ancora errore ah ok 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 questo ovviamente è un errorino qualche dobbiamo sostituire con gli apici perché all'interno abbiamo le due virgola quindi anche qui correggiamo come vedete abbiamo messo gli apici perché all'interno ops qua c'è nessuno mmm 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 perché come vedete qua abbiamo già le due virgola all'interno quindi per forza dobbiamo eh quindi erano dei doppioni quindi non riusciva abbiamo dovuto sostituirle con gli apici quindi ora teoricamente dovrebbe essere tutto giusto guardiamo ok la sovrascriveriga per discovery sits è andata a buon fine adesso sta provando a riavviare la stick search e speriamo che funzioni ok ora entriamo in ssh andiamo a vedere lo status se è ok sta funzionando quindi lanciamo un curl qua all'interno per vedere se riceve ma dovrebbe farlo quindi curl 1.3 ok proviamo sull'indirizzo 0.0.0.0 e anche qui riceve quindi usciamo pure dal nostro server andiamo 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 qui e vediamo se anche qui riceve e riceve quindi direi che almeno elasticsearch è installato e quindi niente per questa prima parte di tutorial è tutto nel prossimo tutorial vedremo come installare Kibana sempre tramite Ansible e poi proseguiremo insomma finché non riusciremo a indicizzare dei dati se vi è stato utile nel frattempo mettete un mi piace in descrizione troverete il link al repository e forse anche altri link utili grazie a tutti 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 grazie a tutti